Un commento sugli episodi di violenza a Trieste e se secondo lei esiste potenzialmente un problema di sicurezza. No, lo escludo un problema di sicurezza, lo escludo categoricamente. Si tratta di episodi isolati, non ritengo che siano collegati a bande o situazioni emergenziali. C'è, come ho già detto in altre occasioni, un tema più generale che riguarda il mondo giovanile su cui bisogna aprire bene gli occhi e che a volte appunto si presenta con queste modalità. Penso che il Covid e il lungo tempo di non socializzazione abbiano in qualche modo incluito anche in queste episodi. Grazie. Grazie.